Tra poco, è lo stuntman più imprevedibile di tutti i tempi. Sei pronto a fare acrobazia insieme a lui? Arriva Kik Chiapposky a Disney XD. Lunedì. Questo è un test per stabilire se sono degno di entrare a far parte della Lega dei Super-eroe. Spero che sarai in grado di sopravvivere. Ti va di ballare? Non ti avrei fatto quest'offerta se non avessi visto in te i loro quattro e i prossimi Avengers. Non farti sfuggire i nuovi episodi di Marvel Ultimate Spider-Man. Da lunedì alle 18.15 a Disney XD. Disponibile anche in HD. Così vi piaccio di più, vero? Oggi. Preparatevi a vivere una storia di uomini speciali. Di supereroi. Quante volte li abbiamo visti salvare il pianeta Terra e l'universo intero? Ma avete mai immaginato di vedere supereroi tra i banchi di scuola? Eppure esiste una Sky High School. La sua posizione è nota solo a persone altamente qualificate. Super persone. Alla Sky-Fi facciamo tutto il possibile per insegnarvi a usare i vostri poteri. E cominceremo da te. Non fatevi prendere dal panico. Battaglia! Una storia di superpoteri che ci farà vivere scene di grande azione. Non credo nell'uso violento dei poteri. Prossima fermata. Sky! Non perdete questa occasione. Conoscerete i supereroi della Sky High. Una scuola unica. Quando è che scegliamo i nomi e i costumi? Ma triplo. Sky High, scuola di superpoteri. Oggi all'eventi a Disney XD. Disponibile anche in HD. Nuova stagione. Il tuo momento sta arrivando. E' la nuova stagione di Disney XD. Nuovi, nuovi, nuove serie. Nuovi episodi. Nuovi episodi. Disney XD. Nuovi emozioni. E ora lo puoi vedere. XD. Anche in HD. No, ti metto e franno. Che chi ne voglio vivere. I can't find a me. La nuova stagione di Disney XD. E' anche in HD. Adesso, Kik e Kiapposki a Disney XD.